Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la YZR conosciuta meglio da tutti come la M1, il modello in scala 1 a 4, l'edizione di Agostini e l'uscita è la numero 33. Vado subito a dare un'occhiata al contenuto e a procedere al montaggio. Per le persone invece interessate a dare lettura oltre che guardare le immagini all'interno del fascicolo potranno soddisfarsi andando a guardare il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, siamo arrivati a oltre un milione di visualizzazioni. Siamo, uso volutamente il plurale, perché il canale è vivo grazie a voi. Alle persone non iscritte, sempre che ne abbiano piacere, dico questo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Eccoci qua. All'interno troviamo, così chiamata, la scatola tubi, ma ovviamente il termine tecnico sarà ben tutt'altro che questo. Abbiamo il coperchio della frizione, tutto quello che vedete in plastica, la flangia finale della frizione, dove qui poi abbiamo le sei molle spingi-disco, l'anello della frizione, il tubicino in gomma che io ho già incollato per questioni di tempo, ci servirà il motore, eccolo qua, fate sempre attenzione a come lo maneggiate, e il gruppo frizione che abbiamo montato nel numero precedente. Ecco qui. Bene, a questo punto bisogna fare molta attenzione a questi perni. Guardate, quando vi capita, adesso cerco di avvicinare le immagini. È molto importante questo. Eviterete di creare, di fare danni. Vedete che qui hanno messo un rinforzo per il perno nella fusione, ma qui no. Ecco, questo è un punto debole. È molto facile rompere questo. Io, quando succedono queste cose, vado a rinforzarlo con del bicomponente, come ho messo qua, non so se si vede, è trasparente, forse non lo vedrete, alla base. Chiaramente quello è già indurito, però dovete sempre fare attenzione quando fate l'inserimento, per cui questo pezzo va messo qua sopra, qui. Però prima di mettere quel pezzo lì ci dice che questo tubo va inserito qui. Fatelo prima, che è tutto molto più semplice, vedete, invece di farlo dopo. Lo fate prima. E quando lo fate, attenzione ai perni dietro, perché li danneggiate. Fate molta attenzione. Io vado però a mettermi del bicomponente subito, qui in diretta, così vi faccio vedere. Resina e catalizzatore, in parti uguali, ecco qui. E questo è a posto. Mescolo. Nel momento in cui lo mescolo, se le parti che ho usato sono al cento, uno a uno, metà uno e metà l'altro preciso, altrimenti cambia tutto, io ho tempo circa cinque minuti per lavorare questo collante. Vi farò vedere alla fine del filmato come sarà già diventato. Ecco qui. Quindi, abbiamo detto che questo va qui. Controllo soltanto che sia giusto. Dove l'ho inserito? Sì, va proprio qui. Allora, vado a rimuoverlo. Un po' di collante sul tubo, non sul perno. Vi ho spiegato tante volte la differenza. Così. Perfetto. A questo punto dobbiamo andare ad inserire questo. Ricordatevi sempre i perni dietro. Mi raccomando, perché vi distraete, li danneggiate. Dobbiamo andare a inserire questo qui. In questa maniera. Così. Ok? Per farlo, voi non fate proprio quello che faccio io. Io uso fare queste cose per evitare di crearmi danni. Piuttosto metto un po' di colla, ma almeno non rompo i perni. Vado a crearmi un piccolo invito senza attraversare il foro. Assolutamente. Ecco qui. E inserisco. Se vedo che ha troppo gioco, ovviamente vado a incollarlo. almeno mi sono mai piaciuti questi perni. Devo andare allargare ancora un po'. Vedete che sto consumando la plastica solo all'inizio. Questo mi aiuta di sicuro. Proviamo. non dovete mai avere fretta. Mai. ecco fatto. Sì, va benissimo. Guardate. Vi consiglio di fare quello che ho fatto io, altrimenti rischiate davvero di danneggiare i perni. Fate molta attenzione. Bene. A questo punto ci dice di inserire questo tubo qui in questo perno. Adesso io lo inserisco senza collante. Lui prende un po' la forma. Anzi, per aiutarvi fate così come vi ho fatto vedere altre volte. Sto cercando uno stuzzicadenti e arrivo. ecco qui. Inserite. Attenzione a non farvi male. Lo lasciate qualche secondo così. Non vi dovete preoccupare perché la gomma poi torna all'origine. Quindi poi si restringe di nuovo. bene. Un po' di collante. Così. E adesso inserisco il tubo. Avete visto? Come è entrato facilmente. E con la colla non si staccherà mai. Ecco. Così è perfetto. A questo punto non ci rimane che lavorare sulla frizione è terminato. Quindi prendiamo questo. Lo mettiamo così. Non cambia nulla. Così o così non cambia nulla. Inseriamo questi. qua abbiamo due perni. Vedete? andiamo a premere solo in corrispondenza dei perni. Premete bene perché qua ancora deve entrare. Vi sembra che è entrato ma deve ancora entrare. così va bene. e così va bene. Perfetto. Perfetto. A questo punto prendiamo quest'ultimo pezzo qui. Io sono andato già a consumarmi con una lima qui che avevo degli sfridi di lavorazione che mi facevano spessore e non avrebbero permesso a questo di inserirsi perfettamente in battuta qui. Sono andato a consumare un po' qua dove manca la vernice vedete che è nero. semplicemente così. E poi sono andato qua a lavorare su queste due parti dove usciva la plastica. poi inseriamo questo piano piano senza fretta destra sinistra destra sinistra e poi giù insieme. Guardate che dovete premere. Non pensate subito che sia arrivato alla fine. ve ne accorgerete quando girandola al contrario avrete questa plastica tanto fuori da una parte quanto dall'altra. Allora andrà bene. Adesso dobbiamo andare a inserire questa parte qui qua sopra. Vi rendete conto solo per la frizione quante parti che hanno usato. Però attenzione perché va bene adesso noi la mettiamo così. Però ricordatevi che c'è la parte qui con lo sfrido di lavorazione. La vedete? Questo si chiama sfrido di lavorazione. Che è la parte dove entra il materiale fuso, in questo caso la plastica, nello stampo. E quando aprono lo stampo rimane attaccato qui dove è passato dal foro la plastica. che è stata sparata dentro la forma. Quindi noi andiamo a metterlo così. Però ci ricordiamo, anzi andiamo a vedere subito poi, questa è la parte bassa ok? Questa va messa così, poi con le carene non si vede niente. Ma è una cosa che vi serve anche per il resto. Considerate sempre la parte che non va vista. Quindi questo va messo così e questo andrà messo così. Va benissimo. Vado ad inserirlo così. Guardatelo da dietro se avete centrato i fori. E li abbiamo centrati. Poi premete piano da una parte e dall'altra. Ok. Però sinceramente è entrato troppo facilmente. Io ci metto un po' di colla. Assolutamente sì. Guardate la colla. Guardate la colla che sta già tirando. Guardate. Riesco appena appena a metterne un po' qua. Giusto giusto per finire. Avete visto? Cinque minuti eh? Poi. Va benissimo. Abbiamo detto questo va messo così. Quindi questo al contrario così. Prima di tratto su. subito. Avete visto? Eccolo qui. Perfetto. A questo punto non mi rimane che inserire guardate che spettacolo il pezzo qua dentro. Considerando che la parte lavorata vedete non si vede ma va sotto lo stesso. qualora si fosse vista non ce ne saremmo accorti. Proprio per questa attenzione. Vi ricordate però quei perni che vi dicevo? Attenzione che sono deboli. Ecco attenzione. Vado ad allargare anche qui. Soltanto all'inizio. Altrimenti si danneggiano. Mi si rompono. Ve lo dico io. Fidatevi. Ok. Sono andato. Vedete la plastica. Sono andato allargarmi. Qui a crearmi l'invito con un cacciavite con la punta più piccola. A stella. Ho reso i fori più aperti solo nell'entrata. Ovviamente dentro no perché vedete i perni? Sono piegati. E' un attimo che si rompono questi. Un attimo. E poi bisogna incollare il pezzo. Si risolve lo stesso però bisogna incollare il pezzo. Allora questo lo mettiamo così. Uno. E due. Vediamo un po'. Certo che avrebbero potuto farli anche un po' più resistenti questi perni eh. Non è che mi piacciono a me sinceramente però. però è andato tutto bene. Avete visto? Ma perché ho allargato eh? Altrimenti si rompevano. Quando sarete certi che sarà stato inserito tutto bene? Guardate. quando qui sarà tutto perfettamente attaccato alla plastica grigia. Su tutta la circonferenza. Vedete? Ma guardate che bello questo pezzo. che valore aggiunto. Avete visto? Abbiamo finito anche questo ultimo montaggio. I tubi sono tutti in sicurezza e di questo ne sono sempre contento. E' una cosa che consiglio in ogni modello che sto montando. non usate la tacche. Ricordatevelo. Ve l'ho già spiegato il perché. Bene. Adesso prendo tutto quello che ho montato fino al numero 33. Vi volevo soltanto far vedere la colla. Ecco la fine che ha fatto la colla. Guardate. Vedete? E' già diventata dura. Meraviglioso l'epossidico bicomponente. Ve lo consiglio. Ecco qui. Questo è il gruppo marmitte con le sonde lambda. Il terminale di scarico. Le sonde lambda mi cadranno ad ogni video perché non le ho ancora incollate. Lo farò solo alla fine quando non devo più maneggiarle. Così anche urtandole loro si staccano e non si danneggiano. comeci bene. Comandare, guardatevi le sonde. Guardatevi le sonde. Ho. guardate che air box bellissimo e si apre con le staffe qui è come quello vero mi è rimasto solo questo il gruppo ammortizzatore anteriori che non è nient'altro che la riproduzione in scala 1 a 4 della motovera in maniera encomiabile ditemi voi se non ho ragione sembra o non sembra una motovera marmitte con canne in alluminio anodizzato mi piace farvi vedere tutti i particolari bene ragazzi un ultimo guardata questo pacco frizione meraviglioso questi modelli costano ma sfido io ad avere modelli così particolareggiati a minor costo e poi ve li montate voi è una bella soddisfazione un saluto a tutti un abbraccio a tutti voi un saluto a tutti i vostri cari più cari e grazie del vostro tempo e grazie veramente con tutto il cuore perché siete voi che continuate a dar vita al canale grazie a tutti ragazzi ciao ciao